La formazione continua dei periti industriali è stabilita dal regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Periti Industriali. Tutti gli iscritti all'albo sono tenuti a seguire corsi di aggiornamento e formazione per acquisire i crediti formativi necessari a svolgere la professione. La verifica di tali crediti avviene su base quinquennale. Icotea dal 2016 è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Periti Industriali. Pertanto, ai periti iscritti ai percorsi formativi, dopo aver superato la verifica di apprendimento, Icotea convalida sulla piattaforma nazionale del CNPI dei periti industriali i crediti formativi professionali conseguiti. La piattaforma formativa Icotea è attiva a 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Di seguito, alcuni corsi erogati da Icotea che rilasciano crediti formativi professionali ai periti industriali e ai periti industriali laureati. Corso coordinatore per la sicurezza, corso certificatore energetico degli edifici, master sicurezza e gestione ambientale, corso RSPP modulo B, corso preposto sicurezza a rischio alto, corso RSPP modulo B SP1, BSP2, BSP3, BSP4. Vai su www.icotea.it, menu, clicca percorsi formativi, formazione continua ordini professionali, vai su formazione periti industriali.